Sto lavorando a un nuovo caso. Otto scienziati scomparsi. Questo l'ho già visto. Anni fa. Questa storia non finisce bene. Lavoriamo in coppia per chiudere il caso e poi mai più insieme. Il paese della notte si prende tutti. Uno dopo l'altro. Con il premio Oscar Jodie Foster. True Detective Night Country. Dal 15 gennaio. In esclusiva su Sky Atlantic. Serie A Team, serie BKT, serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Le feste sono ancora più belle se c'è il calcio su Sky Sport. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.